buongiorno a tutti oggi vi presentiamo il nostro nuovo lavoro sull'ammiraglia delle moto da turismo la BMW R13GS, terminale serie Tourance e decatalizzatore andiamo a vederli da vicino scopriamo insieme come sono fatti e tutte le caratteristiche dei nostri nuovi prodotti il terminale della nostra nuova serie Tourance la serie dedicata a tutte le moto turistiche e sport tour è al corpo in titanio verniciato con vernice ceramica nera opaca i fondelli sia di uscita che di ingresso sono in fibra di carbonio e sotto il fondello di ingresso sotto la griglia in puro stile racing si celano i due DB killer separati il silenziatore è ovviamente omologato secondo la nuova normativa Euro 5 Plus per questa R13GS il logo laserato e anche il numero di omologazione sul retro sempre laserato questa moto però abbiamo voluto spingerci oltre e abbiamo realizzato un gruppo collettori decatalizzatore andiamo a vederlo da vicino andiamo a scoprirlo in tutte le sue caratteristiche bene eccoci qui con il nostro decatalizzatore tra le mani guardiamo bene come lo abbiamo realizzato il decatalizzatore ha una coppia di collettori diametro 52 mm con un tubo di bilanciamento anteriore diametro 32 i due tubi, i due collettori confluiscono in questo presilenziatore dove all'interno c'è appunto un silenziatore per smorzare un pochino il rumore e una camera di compensazione in questa camera di compensazione trova l'alloggiamento la sonda post-cut ormai d'obbligo sull'Euro 5 Plus nella parte posteriore il nostro decatalizzatore è dotato della puleggia e della valvola qui si attaccano i cavi originali in questo modo la gestione della centralina è esattamente originale e la moto non ha bisogno di nessuna mappatura sono presenti anche gli attacchi per poter montare il paracalori di serie ed inoltre l'impianto è concepito in maniera modulare ciò vuol dire che può essere utilizzato il silenziatore di serie o qualunque altro silenziatore aftermarket che monta sul catalizzatore di serie nella parte anteriore dei tubi ci sono i due alloggiamenti per le sonde lambda e l'impianto è interamente realizzato in acciaio inox AISI 304 saldato interamente a TIG e con una finitura satinata sentiamo la voce di questa fantastica BMW R1300GS il catalizzatore per BMW R1300GS si monta sulla moto senza la necessità di alcuna modifica e non è necessario intervenire sulla centralina perché funziona perfettamente con la mappatura originale vi ricordo inoltre che all'interno di tutte le confezioni dei nostri prodotti è presente la service card la service card identifica il vostro prodotto con un numero seriale ricordatevi di registrare la service card sul nostro portale per attivare la garanzia estesa a 30 mesi voglio ancora ricordarvi che il decatalizzatore è un dispositivo che non è omologato per utilizzo stradale non vi resta altro che loggarvi sul nostro sito www.pudiexos.it per effettuare l'acquisto possibilità di finanziamento 12 mesi passo zero con utilizzo di carta di credito oppure recarvi nei negozi della nostra rete vendita in tutto il mondo grazie ciao